Buongiorno, con non solo Anima.tv c'è Franco Maninverno, salve. Buongiorno a voi. Che cosa è il male? Il male è non conoscere se stessi. In senso taoista, considerando che si parla di Tai Chi Chuan, non esiste il male, non esiste nemmeno il bene. Esiste qualcosa che si trasforma continuamente. C'è un aneddoto, una storiella di Chuan Tzu, che dice che Chuan Tzu si sveglia avendo sognato di essere una farfalla. Però si chiede anche, non capisco se era la farfalla che sognava di essere Chuan Tzu o Chuan Tzu di essere stata una farfalla. Dice, ci deve essere una differenza fra i due stati. Dice, sì, la differenza c'è, ma la trasformazione di tutte le cose, i taoisti pensano che il mondo sia costantemente in movimento, un fluire continuo, senza sosta, come questa intervista. Annulli queste differenze, per cui non do un senso morale al male. Per esempio, la virtù di un coltello è quella di tagliare, la virtù del fuoco è quella di bruciare. Quindi la virtù, ma il fuoco può bruciare una cosa viva e quindi farla soffrire, oppure servire a coloro che ne hanno bisogno di nutrirsi per vivere. Ecco, dov'è il male del fuoco? Non esiste. Il male dell'uomo è un'altra cosa. Il male dell'uomo è il ragionamento, è la mente. La mente che discrimina. Grazie.